ma che è queste le pizze di formaggio fatte in casa per noi produzione propria via portamoli giù cascherà per terra se non gliela può eccomi ciliegio in fiore i gatti i gatti sta aspettando adesso è la volta della cottura delle pizze di formaggio bisogna fare le croci faccio la croce già se lievitate dici lasciamo stare la croce che la famo così ecco benedetto via tra poco inforniamo ecco l'infornamento delle pizze 300 gravi se sei sorda sentirai la scotta a me c'entra tutte e quattro c'entra c'entra dammi il gancio vai e metti lì sotto dai che si spredda vabbè fredda che è troppo caldo voilà già ce ne va un'altra perfetta ce ne va anche cinque basta vedi più uno qui ecco la messa è finita ritornate in chiesa buona pasqua a tutti buona cottura prova stecchino se cotte le pizze di formaggio le pizze di formaggio cotte alla perfezione l'ultima dal buco formaggio buona pasqua a tutti buona pasqua